Innanzitutto congratulazioni per il neo eletto sindaco, avvocato. Una volta neo insediato, oggi siamo qua in una grande giornata dove la grande pallavolo torna a Catania. Come intenzione di supportare il progetto pallavolistico visto la sua nuova carica? Ma è naturale che noi dobbiamo creare le condizioni perché lo sport in genere diventi veicolo di impegno sociale e di pratica di tutti quanti nostri giovani in un momento storico in cui abbiamo una forte criticità sul tema dell'obesità e del disimpegno in genere dei nostri ragazzi. A Catania poi la pallavolo evoca degli scenari straordinari, se uno pensa all'epopea della Paoletti-Catania e quindi tutto quel che ha significato in termini di successi e di trionfi come la medaglia d'argento ai mondiali con i cinque sessi, se non ricordo male, del sessetto titolare, tutto catanese. Quindi diventa un nuovo inizio che spero sia anche il fecondo dei risultati. Grazie.